La via del cielo è come tendere un arco, l'alto si abbassa, il basso si alza. Ciò che è in eccesso viene ridotto, ciò che è insufficiente viene aumentato. La via dell'umanità è l'opposto, prende a chi non ha sufficienza e dà a chi ha in eccesso. Toglia i bisognosi per dare a chi possiede di più. Solo chi segue il Tao offre agli altri quello che ha in eccesso. Quale uomo ha più di quanto gli basta e lo dà al mondo? Solo l'uomo del Tao. Il maestro può continuare a dare perché la sua ricchezza non ha limiti, agisce senza aspettarsi nulla, non si cura dei propri successi e non pensa mai di essere migliore di chiunque altro. Vivere offrendo quello che avete in eccesso. Se guardate le vie del cielo da lontano vedete che la natura è perfetta, il Tao è all'opera, mantenendo un equilibrio divino invisibile. Quando ero a Sidona, in Arizona per esempio, ho fatto un giro delle aree boscose nelle steppe delle maestose montagne di roccia rossa. Dopo avere deplorato i recenti incendi che avevano decimato così tanti alberi, la guida mi ha spiegato che si era in realtà trattato di un intervento della natura. Per milioni di anni, ha spiegato, quando la foresta diventa troppo fitta, i fulmini colpiscono e la sfoltiscono. Senza questo intervento il legno soffocherebbe nelle sue eccedenze. È così che funziona il nostro pianeta. Mentre a volte gli eventi naturali, come siccità, alluvioni, uragani, tempeste di vento e piogge eccessive, possono sembrare disastrosi, in realtà servono a mantenere l'equilibrio. Questo risulta evidente anche nella vita delle farfalle, degli stormi di oche e nelle mandrie di caribù o di bisonti. Lo sport di uccidere sconvolge il sistema che ha la natura di gestire l'eccedenza. Il Tao concorda. Ciò che è in eccesso viene ridotto. Ciò che è insufficiente viene aumentato. Osservate la natura, dice Lao Tzu. Se c'è penuria, non continuate a ridurre ciò che già scarseggia. Le lezioni di questi capitoli finali si riferiscono a come governare le masse in armonia con il Tao. Lao Tzu sembra inveire contro la gente che detiene il potere politico. Coloro che hanno tolto ai bisognosi per dare di più a se stessi cose di cui non hanno bisogno. Nel mondo di oggi vediamo questa pratica svolta in miriadi di modi, ma specialmente quando i legislatori votano a favore di benefici per se stessi, benefici che verranno pagati da qualcun altro, si assegnano formule di pensionamento al 95%, assicurazione medica vita natural durante, limousine, parcheggi privati sul terreno pubblico e viaggi in prima classe, anche se così privano i bisognosi mettendosi al servizio di chi ha troppo. E nei paesi dove la fame è dilagante, non è insolito vedere grandi quantità di cibo e scorte ammassate sui moni, mentre la gente muore di malnutrizione perché i rappresentanti del governo pensano di essere al di sopra di tutto ciò. Il settantesimo capitolo del Tao Te Ching suggerisce di pensare alle cose in più che possiamo rimettere in circolazione per diminuire le carenze che esistono da qualche altra parte nel mondo. Lao Tzu chiede a voi e a me di mettere la saggezza di questo capitolo all'opera nelle nostre vite, vedendo ciò che abbiamo ma di cui non abbiamo bisogno come un'opportunità di essere persone incentrate sul Tao. Lao Tzu non sta chiedendo al nostro governo, ai nostri leader politici o ai capitani d'industria, ma a noi direttamente. Quale uomo ha più di quanto gli basta e lo dà al mondo? La risposta è solo l'uomo o la donna del Tao. Quando ci saranno abbastanza persone come noi, si sarà formato un bacino dal quale emergeranno le persone centrate sul Tao che andranno a governare. Allora metteremo in pratica il modo di vivere presentato in questo capitolo. È piuttosto facile concepire un'eccedenza di denaro o di beni, ma la parola in realtà simboleggia molto di più. Per esempio c'è l'eccedenza di gioia che sentite di poter offrire a voi stessi e ai vostri familiari. Poi c'è l'eccedenza di orgoglio intellettuale, di talento, di compassione, di salute, di forza e di gentilezza che potete condividere con il mondo. Ogni volta che vedete una carenza di gioia, di abbondanza, di opportunità di istruzione, di salute perfetta o di sobrietà, rendete disponibile quello che avete in più. Lao Tzu vi incita a guardare ciò di cui c'è scarsità e ad essere strumento di arricchimento invece di essere una persona che accumula di più, che emargina e divide l'unità che è la vita intera. Mettete in pratica questi modi di essere che sono più in sintonia con la via del Tao. Riducete l'eccesso. Riducete ciò che è in eccedenza nella vostra vita e offritelo là dove può venire utilizzato. Cominciate con le cose che possedete, vestiti, mobili, arnesi, attrezzature, radio, macchine fotografiche o qualsiasi cosa di cui avete troppo. Non vendetelo, al contrario, datelo via se ve lo potete permettere. Non chiedete riconoscimenti per le azioni caritatevoli che fate. Semplicemente comportatevi in armonia con il Tao, riducendo ciò che avete in più. Poi pensate all'abbondanza intangibile di salute, gioia, gentilezza, amore o pace interiore e cercate dei modi per offrire questi gloriosi sentimenti a coloro che potrebbero beneficiare della vostra prodigalità. Siate uno strumento di arricchimento. Proprio come la natura riempie i vuoti mantenendo l'equilibrio ciclico necessario al vostro mondo, siate uno strumento di arricchimento dove osservate che c'è scarsità. Esercitatevi nel dare, dedicando una parte dei vostri guadagni, ad alleviare debiti, poiché, come sottolinea Lao Tzu, il Maestro può continuare a dare, poiché la sua ricchezza non ha limiti. Se non potete offrire denaro a coloro che sono meno fortunati, dite una benedizione per loro. offrite una preghiera quando sentite la sirena di un'ambulanza o della polizia. Cercate opportunità per riempire gli spazi vuoti nelle vite delle altre persone con denaro, con energia d'amore, sotto forma di gentilezza, compassione, gioia e perdono. Ora mettete in pratica il Tao. Stabilite un giorno in cui prefissarvi di sbarazzarvi di qualcosa che avete in più, assicurandovi che sia qualcosa di utile da qualche altra parte. Cercate cose di cui non avete bisogno o che non usate. Per esempio, ho appena visto alcuni quaderni per appunti, tre DVD e un tostapane che non uso da sei mesi. Se osservate attentamente la stanza, proprio ora che state leggendo queste parole, sono sicuro che vedrete cose che potreste facilmente catalogare come cose in più. Perciò fissate una data in cui mettere in circolazione un po' di cose che avete in più. Potete anche scegliere quelle cose che avete sotto gli occhi in questo momento e lasciarle da qualche parte che saranno ben accette oggi stesse. Siete un uomo o una donna del Tao?